Il concetto è che siamo venuti a vedere insieme a un cittadino una strada che dovrebbe essere pubblica. La vedete dietro? Questa è abusiva. Questa è abusiva. Infatti questa strada... La strada è quella originale. No, siccome il sindaco fa il suo lavoro, normalmente va a vedere le cose perché poi non vuole decidere a caso. Ora però le voglio dire, mi fa piacere che lei sia contento, ma qui non ci possiamo fare niente. Questa strada, che qui ha un metro e settanta di distanza, non può essere certamente una strada pubblica. Quindi lei oggi deve fare una cosa, non spenda più soldi con le teste di cazzo dei suoi avvocati. Lei me lo mette per iscritto? Sì, sì, che i suoi avvocati sono larghi e io le metto per iscritto. Dopodiché le metto anche per iscritto che non si potrà più fare niente. Lei ha già perso tre cause. E io per vincere la casa devo spendere i soldi. Ma non vincerà mai, questa strada fa cagare. Porca miseria, sono venuto fin qua per raccontentarla. Fa cagare. Signori cittadini, avete capito dove stanno le cose?